salve ragazzi e bentornati dal vostro guru mike oggi siamo tornati in un nuovo video spacchettamento pokemon oggi andremo a finire di spacchettare il nostro box di matchless fighters box giapponese veramente veramente bello 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 eccole qui le nostre 15 bustine rimanenti io vi ricordo che dobbiamo trovare ancora ancora tantissime carte tra cui la fuori serie intanto vado a levare il cartone e prima di cominciare vi ricordo nuovamente di andare a vedere e iscrivervi ai canali con cui sono in collaborazione e vi lascio qui sotto il link di iscrizione fate voi spaccate tutto mi raccomando bene andiamo allora con lo spacchettamento andiamo con la prima bustina vediamo un po oggi che cosa pulleremo ok partiamo con la prima bustina sempre il lucertolone dell'altra volta che non mi ricordo assolutamente come si chiama poi ce l'abbiamo a tenna questa cosa qui questo è se viper bello quello del team rocket bellissimo artwork e infine abbiamo una trainer va bene va bene ci può stare primo pacchetto nullo io come sempre inoltre ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like al video ovviamente e di attivare la campanella e di iscrivervi al canale per non perdervi niente dei miei video che porto sul canale ok andiamo con la seconda bustina vediamo un po di trovarla questa questa fuori serie allora abbiamo una trainer un corno poi tentacool v bat kung fu panda qui e infine attenzione una v un'altra v e che è draco zolt questo qui esce veramente perennemente però vabbè dai è comunque una v è pur sempre bello andiamo a slivare eccola qui il nostro draco zolt v bello bello ok andiamo a togliere le nostre carte e andiamo con il prossimo pacchetto allora una sotto e via allora abbiamo il cagnolone qui poi lantern dailybeard questo qui che è boh me lo ricordo perfetto e infine sirfec di galar che avevamo già trovato nello scorso video ovviamente questo queste carte giapponesi hanno insomma questa espansione qui ha veramente poche carte insomma su una settantina tipo futuri campioni nostro però ci sono delle fuori serie delle carte alternative veramente veramente tanta tanta roba e speriamo di trovarne una che ancora non è uscita ricordo che è garantita qui la fuori serie ok qua abbiamo drizzol poi cinciu questo è passimian se non erro un uccellone e attenzione attenzione nel numero 47 di 70 forse è una v max esatto una v max di tipo buio oh bellissimo lo slowking lo slowking v max mamma mia quanto è bella questa carta pazzesca pazzesca l'adoro devastante bella 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 guardate che colore le v max sono veramente veramente belle veramente veramente belle rispetto comunque alle alle gx secondo me hanno un qualcosa in più fatemi sapere qui sotto nei commenti di come la pensate ma secondo me le v max sono sono molto molto più belle bene e anche la v max l'abbiamo trovata ci resta da pullare magari una bella una v sicuro questa benedetta fuori serie che ancora non vuole uscire magari anche una full art perché no vediamo un po' che cosa troveremo che cosa troviamo oggi allora vediamo un po' allora l'evoluzione vbat che non mi viene il nome questo eracross bello poi screghi soble e niente una trainer perfetto pacco vuoto ok andiamo con il prossimo ok davanti e via ok allora abbiamo questa bellissima carta che non mi ricordo come si chiama diglet un rotolone questo è il cagnolino è lillipop giusto mi è venuto in mente ecco come si chiama attenzione qui invece una holo qui sotto abbiamo una holo che è l'altra versione di urshifu nello scorso video abbiamo trovato l'altra quella insomma colpo singolo colpo rapido bella bella questa di urshifu bella più bella secondo me questa rispetto a quell'altra tanta roba e anche un'altra holo l'abbiamo droppata dai questa benedetta fuori serie dov'è dove si nasconde allora allora abbiamo questo bellissimo pokemon con lotta questo che si sta a mangiare la ciambella widdle questo è volcarona volcarona e sotto niente uno sciarpedo che già abbiamo trovato va bene andiamo avanti ok bene bene allora sempre il pokemon di prima che non so come si chiama poi andrò a vedere questo è farfetch è un altro bellissimo pokemon volante ma non so come si chiami e poi abbiamo una holo shaming holo bella bella shaming pokemon che particolarmente mi è sempre particolarmente piaciuto bello 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 shaming questa fuori serie ce la fanno sudare ce la fanno sudare fino in fondo nelle ultime bustine vediamo allora andiamo avanti altro pacchettino vediamo un po' allora kakuna yamask l'evoluzione di questo è di lilypop non ricordo come si chiama poi abbiamo dailybeard e sotto un tentacruel niente anche questo pacchetto nullo tutte carte viste e riviste comunque il set è corto quindi le carte si ripetono andiamo col prossimo ok allora abbiamo la lanterna kung fu panda la pre-evoluzione di volcarena che mi sfugge il nome tentacul e sotto abbiamo una v abbiamo una v la numero 7 l'altra versione di blaziken l'avevamo trovato v max e ora anche v bello 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 nulla a dire veramente bello blaziken poi l'hanno fatto con questo artwork devastante in estirada bello bello andiamo subito a slivare il nostro blaziken bello nulla da dire bello mettiamolo qui vicino allo slowking allora spiritombo questo ancora non l'avevamo visto passimian larvesta ecco come si chiamava mi è tornato in mente widol e infine abbiamo attenzione eccola qui fuori serie fuori serie la numero 76 speriamo che sia un'alternativa è lotta forse è un allenatore però no non può essere allenatore è lotta che cavolo dico attenzione vediamo è lo zappos che scala le montagne in versione alternativa mamma mia che spettacolo però bella mamma mia bellissima fantastica fantastica hanno fatto queste carte che veramente sono spettacolari bella 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 questa subito in sleeve subito in sleeve mamma mia devastante guardate là che spettacolo di carta sembra un po quello di come si chiama quel cartone fantastico non mi viene in mente il cartone di cui stavo parlando vabbè a un caso ve lo lascio qui sotto nei commenti e l'alternative l'abbiamo trovata ora in questi ultimi quattro pacchetti spererei di trovare anche la full art speriamo di trovarla anche la full art allora allenatore questo coso quest'altro uccello volante tentacle e reguneris di galar bello in versione olografica l'evoluzione di yamask sempre di galar anche questo in sleeve eccola qui reguneris bello vicino qui all'eolo che abbiamo trovato passiamo al prossimo dai su deve uscire un'altra una full art sarebbe il panico trovare anche la god ma non credo perché avendo trovato la versione insomma una fuori serie è molto molto difficile però non si sa mai allora abbiamo questo questo pokemon che ci fa la linguaccia cinciu rotolone diglet e un'altra olografica che è tandarus bello tandarus quello elettrico bello 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 questo pokemon spettacolare un'altra holo stiamo pullando veramente tanto in questo in questa parte di sinistra del box avevano messo tutto di qua bello vicino qua a regneris ok ci mancano le ultime due bustine andiamo a vedere dai speriamo di trovare qualcos'altro dai dai anche se è difficile però si spera sempre allora kakuna lillipop screghi farfetch e niente una trainer vediamo un po' nell'ultimo almeno con una holo allora screfti standler una cosa del genere carvania pokemon erba e una holo appunto che è uh beedrill bello bello beedrill tanta roba che artwork spaziale bello bene direi che non ci è andato affatto male con quest'altra parte 5 holo ora facciamo un piccolo recappino 5 holo belle tutte veramente belle questo set veramente fantastico e poi abbiamo le due v dracozolt e blaziken lo slowking v max e questa bellissima versione alternativa di zapdos che scala la parete veramente veramente bello bene io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like al video se ovviamente questo video vi è piaciuto vedendo qua il bottino io spero vivamente che vi sia piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale supportarmi e di attivare la campanella e ci vediamo a un prossimo video ciao